A lei sono partite anche queste atlete della settima batteria, ormai ne hanno viste sei prima di loro quindi sanno benissimo che a meno tredici sentiranno il suono della campana e poi inizierà a piovere punti sulla pista di Senigallia. Intanto è un atleta della Paderrese che si è portata a condurre le operazioni in testa al gruppo. Si tratta di Mailo. Al passaggio campana, giro, punti, punti, punti. E all'esterno l'attacco dell'atleta di Savona. 39,356. Quindi i negri, pittatore. Ora l'atleta del Menzana, Meucci, che si è portata a condurre. 152,39. Quindi Meucci. Campana di meno 9. Moretti, ora del New Roller Porcia, si è portata in testa seguita dall'atleta del Casier, ma si mescolano subito le carte. C'è un'azione assai interessante della numero 39 e poi 28 l'atleta che ha preso un giusto. Quindi negri e disconti. Campana. Intanto abbiamo un atleta lì a terra, entro i sanitari di corsa che arrivano le atlete, per favore. E siamo ai punti. Vai, vai, vai. 152,356. Meucci, pittatore. Meucci e pittatore. Al passaggio campana di meno 5. Pittatore Meucci. Pittatore Meucci Negri. Guardi, vediamo chi si lancia ora sul ventilineo per i punti. 356,152. Quindi pittatore Meucci. Campana di meno 3. Viene lanciato lo sprint ora per andare a caccia di questi punti. Ragazzi, 12 femmine all'appello, ragazze, 12 femmine all'appello. 152,39. Quindi Meucci Negri. Meucci Negri. Meucci Negri con i passolini. Ora l'atleta di Corcia. Si è portata in terza ruota. Campana per l'ultimo giro. Ultimo giro, ultima corsa. Andiamo a caccia di tutti. Andiamo a caccia di tutti. Ed è Negri, Peucci. Negri, Peucci Moretti. Quindi 39,152 e 9. Grade. Per voi. Per voi. Sì. Per voi. Per voi. Grazie a tutti.